Oggi vi parliamo di noleggio, in particolare vi parliamo di un'operazione molto importante quando si va a prendere una barca per fare una vacanza in charter, il check-in. Molti sottovalutano questo momento della vacanza, la prendono come una perdita di tempo, è sbagliato perché dal check-in, un check-in fatto bene è la vostra garanzia per non avere problemi quando voi tornate a ridare indietro la barca alla base da dove siete partiti. Come vedete anche questa volta siamo a Marina Caladesardi in Sardegna Nord Orientali, ospiti della NSS Charter che vi ricordo essere la società di charter più grande in Italia, ma non faremo un video sul check-in proprio della NSS Charter, ci sforzeremo di fare un video che abbracci tutti i modi di fare check-in che hanno le diverse società di charter in Italia. Come vedete il Marina in questo momento è un pochino in disarmo perché siamo a febbraio, in pieno inverno, per cui qui si fa soltanto manutenzione, ma tra poco vi faremo vedere qualche immagine per farvi capire quanto è bello questo posto d'estate e perché noi di SVN Solo Vela Net lo definiamo il Marina più verde d'Italia. E adesso andiamo a vedere come si fa il check-in quando si parte con una vacanza in charter. Il check-in sicuramente rappresenta uno dei momenti importanti della nostra vacanza in charter, l'inizio della nostra vacanza in charter. Il check-in sicuramente rappresenta uno come si fa un check-in. Un check-in si fa con il comandante della barca, cioè quello che ha preso la barca in noleggio e il rappresentante della società di charter. Lasciamo tutti i nostri bagagli, la spesa che abbiamo fatto in banchina con i passeggeri, saliamo a bordo e abbiamo questo confronto con il rappresentante della società. Per aiutarmi a parlare di check-in ho qui con me Simona Pasqua della squadra skipper della NSS e Simona sono vent'anni che fa questo mestiere per cui sono vent'anni, essendo lei la skipper della barca a fare check-in e li fa dalla parte nostra, cioè dalla parte dell'utente ma chiaramente conosce molto bene anche il lavoro del rappresentante della società. Simona ci vuoi dire perché il check-in è così fondamentale è così importante? Assolutamente, è importantissimo perché servirà al cliente a conoscere la barca e poterla quindi usare durante la settimana, quindi prendere familiarità con il motore, con la strumentazione, con l'ancora, sapere dove sono le prese a mare, lo switch dell'acqua, tutto quello che effettivamente servirà a noi. Questo è fondamentale perché ricordate che quello che non vi fate spiegare nel momento del check-in, quando andate fuori poi non c'è nessuno che ve lo spiega, per cui è molto meglio perdere un quarto d'ora in più durante il check-in e capire bene come funziona tutta l'attrezzatura della barca che poi trovo perdere ore fuori quando si è in mare per andare a cercare l'interruttore del vericello, l'interruttore dell'elica di prua o qualche altro strumento che si trova a bordo. Esatto. Un'altra ragione, oltre la familiarizzazione, è non avere sorpresa alla fine, perché loro ci daranno una lista, questa lista noi la spunteremo punto per punto e alla fine la firmeremo, il che significa che ci prendiamo la responsabilità di aver verificato tutto quello che abbiamo trovato. Se poi questo non corrisponde alla situazione in cui la barca ritorna in porto, purtroppo ci sarà qualche cosa da dover pagare. Voi considerate che le società di charter, almeno più del 90% delle società di charter e tutte le società di charter grandi, non hanno nessun interesse a giocare sulla vostra cauzione. La cauzione è la somma di denaro che voi dovete lasciare quando prendete la barca a copertura della franchigia assicurativa e va un pochino oltre questa perché deve coprire anche delle cose che non sono in assicurazione. Come dicevamo, non hanno interesse le società a prendervi dei soldi dalla cauzione perché è una pessima pubblicità. Soltanto alcune ci giocano e ci giocano parecchio, da quelle ci si difende prendendo informazione e sentendo la reputazione della società. Detto questo però, chiaramente la società di charter, se voi lì portate la barca con dei pezzi mancanti, mancano tre parabordi, manca il tender, manca il motorino fuori bordo o altre cose, non possono non mettervela a conto. Perché considerate una società come questa, che solo in questa base ha 40 barche e in totale ne ha 115, cominciano a mancare 300 euro di attrezzatura. Ogni barca che rientra alla fine dell'anno sono milioni. Per cui, anche non volendo giocare sulla cauzione, però devono essere precisi e farvi pagare quello che voi non riportate. Per questo dovete fare un buon check-in. Assolutamente. Adesso vogliamo vedere le varie fasi del check-in, i vari comparti da prendere in analisi? Allora, possiamo cominciare da un check-in esterno e passare poi ad un interno o viceversa. Questo decidete voi. Noi siamo già fuori, quindi cominciamo a vedere le parti esterne. Fondamentale è provare il motore, naturalmente, accenderlo e provare che in grani marcia avanti e marcia indietro. Benissimo. Nel motore dovete anche chiedere quali sono i giri di crociera. Sappiate che molte società sul monoleva, sui cavi del monoleva, applicano un blocco. Un blocco che permette di arrivare solo fino al massimo dei giri di crociera. Questo per evitare che qualcuno distratto faccia delle lunghe navigazioni al massimo della manetta e danneggi il motore. Oggi la velocità di crociera è all'incirca il 20% di giri in meno di quelli massimi. Chiedete se c'è il blocco. Se c'è il blocco, voi sapete che dando tutta manetta sarete alla velocità di crociera. Sarà una cosa abbastanza comoda e sicura perché non rischiate di danneggiare il motore. Dopo il motore sicuramente cominciamo a controllare la strumentazione. Quindi GPS e tutti gli altri strumenti. Loro sono importanti per due motivi. Uno perché il GPS cambia di modello da barca a barca. Quindi magari voi ne avete utilizzato un modello differente e non appena salite sulla nuova barca vi potrete trovare un pochino spesati. Quindi fatevelo spiegare. Il resto della strumentazione è importante per la lingua perché la persona che è stata a bordo prima di voi magari era di un'altra nazionalità e poi non siete in grado di cambiare il settaggio della lingua e dovrete chiamare in base. Certamente. Dagli strumenti passiamo poi autopilota, un altro strumento per noi importante. Quindi provatelo, attaccate l'autopilota, date più 10 e meno 10. Provate l'elica di prua se l'avete. Questa barca per esempio ce l'ha. Un'accortezza nell'elica di prua. Ricordatevi che siamo in porto e che abbiamo i corpi morti a prua. Quindi allontanateli dalla prua e dopodiché provate l'elica in entrambi i sensi. Dopodiché passerei al controllo dell'ancora, fondamentale anche lei. Siete già con il motore acceso quindi provatela, vedete se sale, se scende. Chiedete quanti metri di catena avete. Chiedete se la catena è segnata e caso mai non lo fosse io me la segnerei. E' importante sapere quanti metri dare, certamente. Dopodiché controlliamo se ci sono danni nelle fiancate, in coperta, se c'è magari un oblo lineato. Perché questo poi è una cosa spiacevole quando rientrate. Quindi verificatelo prima. Scusami Simona, non perché la società voglia puntare su quello e farvelo pagare. Perché tante volte neanche la società si è accorta che casomai il passauomo è fesato. Per cui siccome non se ne è accorta la dà per perfetto. Quando voi arrivate loro se ne accorgono e non possono fare altro che pensare che l'avete fatto voi. Esatto. Ricordatevi che il check-in abbiamo detto deve durare almeno un'ora per barche. Quando le barche sono tante a volte si può anche correre. Alcune cose scappano. Esatto. Poi tu mi parlavi dei bocchettoni. Sì, importanti i bocchettoni. Uno dice ma io lo trovo l'ingresso dell'acqua, l'ingresso del gasolio. Però le barche sono tutte diverse. Per esempio in questa, che siamo in uno Oceanis 46, l'ingresso del gasolio è sotto il puntapiedi che è qui accanto al timone di sinistra. E uno dei due ingressi dell'acqua è sotto l'altro accanto al timone di dritta. Quindi poi si va un pochino alla caccia al tesoro se non lo sappiamo prima. Se non ve lo spiegano voglia cercarli. Quando li trovate? L'altra cosa è le bombole del gas. Sì, importantissime anche loro. Controllate che siano piene perché poi potrebbe essere spiacevole che vi finisce una bombola e non avete l'altra da poter cambiare. E non sono sempre facili da trovare. Controllate dove sono, controllate che siano piene e se avete una spiaggetta elettrica come nel nostro caso in questa barca provatela perché salite sempre, la trovate aperta e la gente non ci pensa mai. La prova solamente dopo quando parte. Allontanate la passerella e provate i pulsanti e vedete che realmente funziona. E poi chiaramente dentro i cavoni controllate le cime di ormeggio. Esatto, tutte le attrezzature poi più piccole, la sassola o il secchio che comunque serviranno. Altra cosa magari prima di passare dentro controllerei le vele. A volte non sempre è possibile perché magari è una giornata molto ventosa e non si possono aprire. La società vi dà la possibilità entro le 24 ore quando uscite di alzarle tutti e due, provarle e se tutto va bene, nulla. Se c'è qualche problema chiamate immediatamente e fatelo presente. Va bene, a questo punto direi che ci spostiamo sotto coperta e andiamo a vedere quello che c'è da vedere sotto. E sotto cosa dobbiamo controllare secondo te e Simona? Varie cose anche qua sotto. Comincerei dai documenti dell'imbarcazione. Certamente. Quindi essere sicuri che siano presenti a bordo e che ci sia tutto, licenza, assicurazione, certificato di sicurezza, eccetera. Io direi anche le carte nautiche che non servono perché c'è il Map Navigator. Ma se il Map Navigator per qualsiasi motivo non funziona, se non avete le carte nautiche siete completamente ciechi. Dopo di ciò passerei al pannello 12V e al VHF e quindi vedrei singolarmente tutto quanto. Tutti i vari pulsanti del 12V, come funziona anche il pannello 220V e il VHF. essere sicuri che sappiamo accenderlo, spegnerlo, cambiare canale e fare anche una prova radio. Questa è una cosa che facciamo. Solitamente chiamiamo il Marina e verifichiamo che realmente funzioni. Che funzioni. Da ciò passerei alle batterie e staccabatterie. Questa è una cosa molto importante. In questa cabina, in questa barca sono qui, nella cabina di poppa, quindi staccabatterie e soprattutto tutti i magnetotermi della barca. Voi considerate che per le batterie avete sempre un blocco batterie servizi, che vi accende le luci, i bagni e tutto il resto. E la batteria invece motore. Sono due manopole diverse che non vengono mai messe in collegamento tra di loro perché quella motore deve rimanere isolata. E dai tutti i magnetotermici. I magnetotermici sono importanti perché se il vericello va sotto sforzo, ad esempio, stacca. E se voi non sapete qual è il magnetotermico, non lo riattaccate più. Quello stacca, fa saltare il magnetotermico. Per farlo ripartire è sufficiente aspettare 5 minuti che si raffredda, andare lì a abbassare il magnetotermico e il vericello ritorna a funzionare. Dopodiché passerei alla dinette, quindi leverei tutti i cuscini della dinette perché sotto abbiamo... A parte tutte le dotazioni di sicurezza che vanno controllate e contate come i giubbini, come le cinture e tutte le altre cose, ma soprattutto troviamo lo switch dei serbatoi dell'acqua. Altra cosa fondamentale. Dove a volte è qui in dinette, altre volte è sotto il lavello della cucina. A volte è sotto il lavello del bagno. Esatto, quindi fatevi dire dov'è esattamente perché la caccia al tesoro non sempre è facile. E questo è importante perché voi dovete sapere che nelle barche ci sono sempre più di un serbatoio e questi sono separati tra di loro. E solitamente se ne tiene aperto uno e chiuso l'altro che funge da riserva. Per cui che succede? A un certo momento voi finite l'acqua, vi dà l'impressione che l'acqua sia finita, ma in effetti basta chiudere uno, aprire l'altro e voi avete il serbatoio di riserva dell'acqua e che vi porta ancora un giorno, due giorni di acqua. Per cui sapere dove stanno quei rubinetti è veramente molto importante. Sempre parlando di rubinetti, da controllare il gas. Quindi dov'è lo switch del gas, nel senso la chiusura, la valvola di chiusura. Provare i fuochi. È vero che avevamo visto prima che le bombole ci sono e che sono piene, ma comunque controlliamo che i fuochi accendano. Dopodiché passerei alle altre valvole che sono quelle dei bagni, quindi le valvole delle acque nere. Vedere dove sono perché anche quelle in ogni barca sono in posizioni differenti. E qui un consiglio, quando uscite dal marina che vi allontanate in mare, aprite le valvole dei serbatoio delle acque scure e fatele svuotare. Tenetele sempre svuotate. Quando chiaramente entrate in rada invece dovete chiuderle perché sennò la situazione si fa imbarazzante. Però tenetele svuotate perché se quelle si riempiono, poi farle svuotare è più difficile e voi il bagno non lo usate. A tannica piena voi il bagno non lo usate più. I bagni vanno controllati e provati singolarmente tutti quanti. Quindi pompare acqua dentro e farla uscire e provare naturalmente le docce, che anche le pompe delle docce funzionino. Tutte quante le luci, quindi della linette e delle cabine e dopo di che passerei un controllo al motore, che il vano motore sia pulito e asciutto, la sentina che non vi sia acqua, i prigionieri così siete sicuri che la barca è assolutamente integra e non abbia preso colpi. E per il resto io direi che abbiamo detto un po' tutto quanto. Magari se li abbiamo, ecco inverter, inverter è il generatore, quindi è avere una chiara e dettagliata spiegazione di come si accendono, di come funzionano. Certamente. Questo è importante. Detto questo io penso che abbiamo parlato un po' di tutto su quello che è il check in. Andate in vacanza, andatevi a divertire, fidatevi della vostra società perché comunque è tutto interesse suo che voi vi divertiate e diciate ai vostri amici che siete stati bene. Quindi non vi aspettate degli scherzi sulla cauzione perché non li fanno. Se il video vi è interessato fatecelo sapere, dateci il vostro like. Io ringrazio Simona Pasqua per la consulenza che ci ha dato, ringrazio NSS Charter per averci messo a disposizione la barca, per essere ospitato in questo stupendo marina e non mi rimane altro che darvi appuntamento al prossimo video con SVN Solo Vela Net. Grazie. 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 Grazie.